Una elezione aperta è frutto di una selezione tra i nomi della cultura, della scienza e del mondo accademico e la proposta lanciata dal Movimento 5 Stelle sulla modalità di scelta del prossimo presidente dell'Istituto Beni Culturali. Pertanto Andrea Bertani e Raffaella Sensoli, rispettivamente consigliere capogruppo in regione, dicono no alla possibilità che alla presidenza dell'IBC dopo le dimissioni di Angelo Varmi arrivi Roberto Balzani, docente di storia contemporanea dell'Arma Mater ed ex sindaco di Forlì. La scelta del presidente di IBC non deve essere quella di sistemare un equilibrio all'interno del PD o di sistemare qualcuno che vive all'interno della classe del PD, ma quella di scegliere un presidente che abbia un curriculum importante, che sia proposto dal mondo accademico, dal mondo culturale, dalla società civile e che abbia la capacità di rimettere in corsa le capacità e i bisogni che ha IBC. ATP e IBC, gli enti finiti recentemente nella bufera, punta dell'iceberg di un sistema che secondo il Movimento 5 Stelle deve essere rivisto. C'è tutto un sistema da rimettere in carreggiata, sia per quanto riguarda la gestione del personale, la selezione del personale e la selezione ovviamente delle cariche dirigenziali. La Regione Emilia Romagna e gli istituti ad essa collegati non deve essere un ufficio di collocamento per compagni di partito.